La Oma S.P.A. è ufficialmente fallita. A decretarlo è stato il Tribunale di Pescara. L'azienda metalmeccanica, che in Abruzzo ha due stabilimenti, a Tocco e Castiglione da Casauria, e un centro manutenzione a Bussi, lascia così a casa 330 lavoratori. Negato anche l'esercizio provvisorio, ultima speranza dei dipendenti, questa decisione ha lasciato sgomenti anche ai sindacati, secondo i quali l'azienda al momento disporrebbe delle commesse per proseguire l'attività. Non è dello stesso parere l'assessore regionale Mauro Febbo, secondo cui non c'erano i margini per l'esercizio provvisorio. C'è stata una richiesta di autofallimento, per cui è chiaro che il magistrato non poteva fare diversamente, così come non poteva fare diversamente che non autorizzare l'esercizio provvisorio, perché se un'azienda è decotta, perché negli anni produce perdite, è chiaro che continuare significa fare quello. Invece il magistrato, credo, giustamente ha voluto vederci chiaro. Tuttavia pare che già vi fossero state diverse manifestazioni di interesse per rilevare l'azienda, tra queste anche quelle della HumanGest. Noi l'abbiamo detto in tutti i modi, abbiamo mandato lettere al tribunale, abbiamo parlato anche con la parte deligenziale della OMA, che siamo interessati in qualità di primo creditore della OMA, cioè la HumanGest oggi è il primo creditore del fallimento. Quindi è chiaro che da questo punto di vista siamo sempre stati pronti a intervenire, lo abbiamo fatto anche per i lavoratori. È chiaro che ci vuole un po' più di senso, come possiamo dire, cioè un po' di senso di onestà, perché se si lascia uno come Angelucci, che si denuncia da un lato come bancarottiere, e dall'altro gli si fa gestire l'azienda negli ultimi nove mesi durante il concordato, è chiaro che si fa fatica a salvare qualunque cosa. La stessa regione che lo ammette alle riunioni. Bisogna cominciare a tirare una linea. Adesso speriamo che con il fallimento questa linea sia arrivata, cioè da una parte c'è il passato della OMA, dall'altra parte c'è il futuro dei lavoratori e dell'azienda. Noi al futuro dei lavoratori e dell'azienda siamo disponibili a guardare, l'importante è che il tribunale continui a mantenere marcata questa linea. Adesso quindi si perderanno le commesse, che passeranno ad altri fornitori, come quella della nuova Pignone, da 200 milioni di euro. Si perderanno le manutenzioni e le professionalità, ma soprattutto 330 persone hanno perso il posto di lavoro. Una grossa sconfitta per tutto l'Abruzzo.